Una cabina di regia unitaria per affrontare le questioni della scuola. Lo chiedono a Chieti l'associazione La Gente d'Abruzzo e la consigliera comunale Serena Pompilio, alla luce anche del mancato servizio mensa negli istituti, a seguito dello stop all'appalto imposto dal TAR, mentre i dipendenti rischiano di rimanere senza lavoro e gli studenti si debbono portare il pasto da casa. Tutte queste tematiche, che sono tante e che partono da quelle che sono le istanze dei cittadini, ad oggi sono state trattate tutte in maniera frammentata. Ci vuole una struttura organica, una struttura costruttiva, assolutamente non polemica, non partitica, ma propositiva, che sia di coordinamento di tutti quelli che sono i bisogni sulle istanze che provengono dai cittadini e soprattutto dagli studenti. Si parte dai trasporti, poi può passare sicuramente la questione della sicurezza delle scuole, delle strutture antincendio, sismiche, la questione delle menze, che non tratto da ultimo, perché sicuramente è uno dei discorsi fondamentali sulla nostra città, che sia un percorso istituzionale che non consenta rimpalli più fra le varie istituzioni e che porta avanti quelle che sono le problematiche e le istante sul territorio, sul settore scolastico. Esiste già un tavolo in prefettura, ma non è sufficientemente allargato, sostengono i promotori dell'iniziativa, secondo cui occorre coinvolgere unitariamente Comune, Asla, Istituti, TUA e tutte le parti sociali che ruotano attorno al mondo della scuola. È un monitoraggio, una rivisitazione a tutto tondo dello stato di salute delle nostre scuole, dal punto di vista della sicurezza, applicazione del protocollo Covid, normativi antincendio, normativi di evacuazione ed emergenza, sino alla fruibilità e alla sostenibilità, quindi il problema delle mensi, il problema del pieno tempo, il problema degli spazi ricreativi. Per questo noi intendiamo affrontare un percorso non polemico, non strumentale, ma un percorso pragmatico, che è quello di un dialogo istituzionale, costruttivo e foriero dei risultati.